buongiorno e benvenuti nella mia cucina oggi la ricetta è come si prepara un arancio e un limone quelli sono a bagno con la mucina per disinfettarli dai trattamenti come si di cavoli vari che ci mettono intorno a parte gli scherzi questa mattina faccio purtroppo no infatti tristezza dicevo abbiamo in preparazione il lievitino per fare la colomba per fare il lievitino abbiamo bisogno di 100 grammi di farina manitoba poi abbiamo bisogno di 60 grammi di latte tiepido che ho già scaldato controlla che se non il lievito bravissimo e poi abbiamo bisogno di 15 grammi di lievito fresco che andrò a sbriciolare dentro il latte tiepido in maniera che così si scioglie meglio un attimino il cucchiaino il cucchiaino perché è quello di vicino ci vuole il cucchiaino il cucchiaino ammazzia dovrò andare a fare un corso di lezione adesso che il lievito è ben scelto ci metto due cucchiaini di miele a tavola consiglia più fa rumore e più abbassa la voce a tavola consiglia abbassa la voce perché sono le 7 di mattina e gli altri dormono ho capito però se fai insieme devi alzare la voce guarda oggi eh mamma santa ammè due cucchiaini di miele l'ho detto prima io l'ho detto pure io eh ma quello dovevo aver scritto dopo quindi non c'entra niente qualcuno penserà che siamo deficienti eh un po' hanno ragione soprattutto per te allora abbiamo quindi ripeto 60 grammi di latte poi abbiamo 15 grammi di lievito fresco e due cucchiaini di miele è un miele particolare io ho questo miele qua perché quello del miele padre so che è molto buono oh signore Dio guarda allora lo metto dentro la farina a un peo la volto non ce lo posso fare stamattina calcolate che io ho dormito sì e no tre ore non potevo dormire di più eh certo e i livelli si facevano da sole ma non freddo che le controllava eh sì 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 abbiamo dovuto chiudere nel forno perché se no non freddo le controllavano molto vicino tolgo la fede le mani sono pulite e disinfettate questo lievitino sì e che cosa serve? qua le aggiungiamo un pochino di farina perché è un pochino troppo appiccicoso questo serve per fare questo è praticamente il primo impasto per fare la colomba ora come vedrai successivamente lieviterà in maniera esponenziale abnorme e lei capiremo che si può fare oh signore mio vabbè oggi è così se la tavo e basta che ci prendono veramente le stupidi allora detto ciò e vabbè e non ci si può fare però così dicevo detto ciò il panetto è pronto adesso lo mettiamo coperto dalla pellicola in forno preriscaldato e spento per circa due ore voi non la vedete? ma è gesticole in una maniera come se desse indicazioni stradali oh siamo italiani è normale è come quando si incontra uno straniero e gli dice ma cosa? alza la voce perché lo straniero è sordo oppure fanno sillabe l'italiano no? perché non è vabbè io andare di là pure tu sei straniero che dico basta allora il lievitine è pronto adesso io lo copro con la pellicola ma già andrea se no cambia freddo il lievitino è certo è quasi finita eh che forse ne fa dolci e impassi questa è un attimo proprio se ne va come l'acqua ce la posso fare? sì ce la farò ecco qui un giorno farò un video in cui riprenderò anche lei la pedria in forno preriscaldato è spento per circa due ore a dopo a dopo eccoci qua ho tolto il lievitino dal forno è stato un'ora e mezza un'ora e tre quarti per l'esattezza come vedete è cresciuto molto bene adesso tolvo la fede e abbiamo il primo impasto perché questo è il lievitino e adesso c'è il primo impasto sono 400 grammi di farina manitoba 110 ml di latta a temperatura ambiente 2 uova intere 100 grammi di burro 200 grammi di zucchero e mezzo cucchiaino di sale mezzo cucchiaino da caffè raso mi raccomando non mi mettete una quantità abnorme perché sennò proprio vi viene colomba salata insomma non mi sembra il caso allora adesso vi faccio vedere il procedimento mettiamo il lievitino che appiccica vedete come è ben lievitato il lievitino dentro alla ciotola della planetaria ecco qui cerco di prenderlo tutto sarà impossibile ma così poi mettiamo lo zucchero metto tutti gli ingredienti il latte così e poi le uova le andrò ad aggiungere una volta mandato avanti l'impasto uno alla volta e alla fine i fiocchetti i pezzetti di burro che vedete io ho già fatto a pezzettini e il sale il sale all'ultimo proprio all'ultimo all'ultimo va bene poi lo rimettiamo a lievitare per un 3-4 ore dentro al forno spento preriscaldato quindi ci vediamo tra un po' alla planetaria allora ho mandato avanti la planetaria aumento di una velocità adesso uno alla volta inserirò le uova e fare in modo che vengano assorbite abbastanza bene ok ho messo anche il secondo adesso andrò a mettere i fiocchetti di burro a temperatura ambiente mi raccomando non devono essere né freddi né troppo sciolti vedete come sta incordando bene l'impasto una volta messi tutti i fiocchetti di burro lasciamo che l'impasto insomma venga impastato giustamente l'impasto per un 4-5 minuti ora metto il sale mi raccomando la quantità di un pizzico abbondante non di più ora lo lasciamo impastare e ci vediamo dopo quando il burro sarà tutto completamente assorbito allora questo è l'impasto il primo impasto ottenuto adesso lo metto sul piano di lavoro come vedete ho già preparato la farina e quindi ci rivediamo dopo quando l'ho impastato un pochino va bene a fra poco allora ho messo l'impasto sul piano di lavoro come vi avevo detto con un altro po' di farina come vedete non è più appiccicoso come era prima e ora facciamo le pieghe sempre che servono per sfogliare un pochino l'impasto intanto il gatto stamattina ha deciso che deve fare così e ora che facciamo questa bella pallettina così tonda tonda la rimettiamo nella lana d'aria a lievitare per circa 4-5 ore deve raggiungere veramente più del doppio del volume va bene ci vediamo dopo eccolo qui l'impasto è pronto l'ho rimpastato qualche minuto sul tavolo senza farina senza niente e il resto l'ho rimesso dentro la ciotola della planetaria con un pochino di plastica intorno di cello pellicola chiamatela come volete adesso andrà nel forno preriscaldato e spento per circa un paio d'ora lievitare ci vediamo dopo eccoci per la colomba stiamo al secondo impasto sono passate ore infinite tipo 6 e adesso lo togliamo dalla insomma dalla ciotola e lo mettiamo di nuovo nella ciotola della planetaria da ciotola a ciotola ecco questo quanto ne vengono di con tutto questo due 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 allora adesso mettiamo la farina 250 grammi di farina manitoba e andiamo in planetaria ci vediamo lì allora ho messo il primo impasto insieme al 250 grammi di farina manitoba e ora un uovo alla volta lo aggiungerò all'impasto stesso aumento di una velocità inserisco l'altro uovo e appena si è amalgamata abbastanza bene da non risultare slegato andrò ad inserire dei pezzettini di burro ammorbidito vedete come morbido sempre la durandola 150 grammi di burro mi raccomando usate quello buono ma al ton della colomba si fa una volta l'anno no? quindi usiamo gli ingredienti buoni per favore consiglio mio poi fate come volete adesso aspettiamo che il burro viene completamente amarganato ah dimenticavo che nel tempo io ho messo la buccia grattugiata su una lancia di un minuto quindi lasciamo che l'impasto vada avanti fino a che il burro non sarà completamente assorbito e ci rivediamo in passo a dopo allora fin tanto che scusate è arrivato l'assistente cuoco dicevo fin tanto che l'impasto sta amalgamandosi con il burro che viene assorbito deve essere assorbito bene completamente noi facciamo l'impasto di canditi io metto una confezione di canditi misti e una di cedro candito ecco anche sul tavolo lo mettiamo perché giustamente è meglio così poi metto due cucchiai di zucchero e vado a frullare fino a che non diventi una pasta leggermente grumosa a dopo allora adesso che l'impasto è praticamente pronto aggiungiamo la pasta di canditi e zucchero ne lascio un po' scusate faccio rumore ma ecco ne lascio un pochini questi pochini da mettere da mettere poi successivamente insieme alle mandorle dretate lo zucchero a velo sopra alla colomba ok adesso l'impasto per un paio di minuti dopodiché procederò a metterli in lievitazione negli stampi allora questo è l'impasto scusate l'umore adesso io faccio le pieghe vedete è morbido ma non la spiccica attiviamo il lievito e io mi sfogo tra l'altro allora facciamo un taglio in questo modo prendiamo una parte questi sono gli stampi che non hanno bisogno di essere oleati o quant'altro facciamo una specie di piccolo rettangolo e adesso lo mettiamo in questo modo nel frattempo i rumori che sentite è l'altra parte del tavolo c'è mio figlio che sta facendo la pasta frolla per le pastiere questo è il piccolo rettangolo? sì queste colombe saranno tutte due uguali? queste colombe saranno tutte due uguali ecco qua detto questo a posto grazie a posto no saranno tutte due uguali perché la base di impasto è la stessa ma una la faremo cioccolato bianco e pistacchio con ripieno di crema al pistacchio non mi vieni il pistacchio a volte per tutte eh sì tanto le tira di qua di là ecco il rettangolo il rettangolo l'ho fatto prima poi l'ho arrotolato il rettangolo che pazienza mamma mia qui abbiamo in contemporanea più ricette esatto e per fortuna che la pizza di formaggio e la pizza dolce l'abbiamo già fatte esatto e le potete andare a vedere sul nostro canale ecco le sveglie certo per i vari impasti che stiamo facendo ecco qua le colombe sono pronte e adesso le lasciamo le lasciamo in lievitazione per un'altra ora e mezza quindi ci vediamo più tardi ci vediamo più tardi ciao allora sono lievitate evidentemente e ora io qui ho fatto la glassa da metterci sopra che ho messo dentro al sac à poche la glassa la metto solo su una colomba perché su quell'altra ma questa è un'altra storia no no scherzo la voglio ricoprire con il cioccolato bianco e la granella di pistacchio e dentro ci metterò la crema di pistacchio va bene allora dicevo ho messo 50 grammi d'albume 50 grammi di farina di mandorle 50 grammi di zucchero a velo e la pasta di canditi che vi ho fatto vedere prima che ho inserito dentro alle colombe ok cioè come hai messo in una ciotola tutto quanto ho messo in una ciotola tutto quanto ho mescolato e poi ho messo tutto dentro il sac à poche ora lo metterò sulla colomba in questo modo così esatto no no ha un senso ha un senso ma si deve essere ricoperta non voglio fare come le colombe che se vendono che ci hanno niente di glassa sopra a noi ci piace la glassa ci piace vederla pieno al massimo di qualunque cosa esatto esattamente visto che comunque ce l'hanno ordinate giustamente facciamo le cose fatte bene allora ci mancherebbe fatto questo mettiamo no la fecola di piatata scusato ho sbagliato stavo e vabbè aceto voi dovete vedere che cosa ho io qui sul tavolo per rendervi conto eh sì ma non c'è quello che cerchi però no infatti non c'è quello che c'è comunque i granelli di zucchero che io la troverò giuro li abbiamo licenziati i granelli di zucchero trovati trovati questi qua ok non male che hai messo il dito sulla sulla marca ma qua dai si sa qual è la marca la più famosa se facciamo questo facciamo cadere anche in terra ma è logico perché insomma se non vanno in terra dopo erano troppi vuoi mettere ancora in terra perché giustamente qualcuno mettilo sopra divertente ok e adesso mettiamo le mandorle senza spingere troppo come faccio io perché se no smontate la colomba tanto comunque rimarranno incastrate nella glassa quindi ok abbiamo messo qualcuno a te non piacciono le mandorle sopra e allora vedi che viene al mio discorso a posto adesso le mettiamo in forno a 180 gradi con un pentolino di acciaio ovviamente con dell'acqua dentro nel senso lo mettiamo nel fondo del forno questo pentolino con dell'acqua in maniera che fa il vapore se vuoi descrivere la cosa metti le mani più avanti il pentolino dell'acqua lo mettiamo nel forno mettiamo a 180 gradi mettiamo le colombe forno statico per circa 25 minuti dopodiché abbassiamo a 165 gradi e cuociamo per altri 20 minuti va bene ci vediamo a colombe fatte ciao questa è la colomba che avevo fatto ieri ecco qui e invece di metterci la granella eccetera eccetera l'ho lasciata così bianca naturale ora c'è un motivo per il quale è meno alta dell'altra che ora vi faccio vedere di questa qua ora la tolgo da una bustina abbia le pazienza ce la posso fare sì sì tanto sì sì ce la posso no ce la posso fare ecco vedete questa quant'è più alta perché questa qua ho messo un pochino più di impasto proprio per farla fuori uscire dallo stampo no invece quella mi serve più bassa perché sennò il cioccolato fuoriusciva tutto quanto fuori e andava perso in quel modo rimane tutto lì caruccio caruccio allora detto ciò questo adesso la togliamo un attimo poi dopo la rincanto e riportiamo la colomba bianca volata di nuovo fino qui vabbè ok grazie è stato un piacere ora io prendo un cuccherino un cuccherino da te gli ingredienti abbiamo qui abbiamo la crema di pistacchio questo ovviamente non l'ho fatta io l'ho comprata eccola qui abbiamo della granella di pistacchio questa l'abbiamo fatta noi i pistacchi li abbiamo comprati sgusciati li abbiamo coltivati tutto l'inverno no assolutamente meno male che la Pasqua è alta così almeno sono cresciuti nel nostro orto ma che cavolo dici vabbè comunque dicevamo e adesso metto la crema al pistacchio dentro a un sac à poche con un attimo vi faccio vedere la bocchetta quale deve essere questa qua con il buco tondo semplice metto così il sac à poche in maniera da non sporcarlo troppo intorno questa è la drittata di mia figlia brava 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 mamma brava andiamo a bucare i punti dove io voglio mettere la crema al pistacchio perché ovviamente praticamente cerchiamo di farla bella condita magari non come quelle che si trovano in giro quelle che tu sul cartone vedi che ci sta l'ira di dio e invece non c'è allora su ogni buchino facciamo un po' di forzatura e lo facciamo un po' più grande come se avessimo capavolto la bacchetta no non mi andava di copavolgerla la bacchetta questa è una bacchetta magica sì magari non l'avremmo usata perché no magari ecco qua io ne volevo un altro uno qui no lì no adesso prendo il sacco ecco e la colo tutta quanta dentro come se avessimo rovesciato non c'è problema se si sporca tanto comunque dopo mettiamo lo deve fare lo deve fare il cioccolato bianco e quindi copriamo le magagne io ho avuto la fortuna di assaggiare prima il pistacchio perché e se dovesse essere andato a male eh infatti a pianto eh ed era a pianto a pianto era proprio disperato di questa cosa era veramente buono come vedete io non sono una pasticcera mi cimento ma assolutamente non lo sono questa è per noi o anche questa l'abbiamo la dobbiamo no questa è per noi ma insomma con quel ditino quale quello che ho visto adesso no no non l'ho visto nessuno sì l'ho visto io è un testimone l'ho visto io ecco qua l'abbiamo farcita l'abbiamo farcita ora prendo il cioccolato bianco e lo metto sopra dopo va rimessa in forno un'altra volta ma assolutamente no dopo va messa a raffreddare e poi rimessa dentro alla busta tanto perché deve arrivare per forza la Pasqua sì vabbè eh sì ecco vedete perché vi ho detto prima che l'ho fatta un pochino più bassa questo è il motivo per mettere tutto il cioccolato bianco che voglio mettere e del pistacchio che è uscito fuori non ce ne applica più niente esatto è stato sommerso non si vede ho detto sommerso come un noto poco chef che bella ho detto poco straborda a niente ma non mi hai fatto le dita apposta per prendere ma ecco qui fossero tutte così le colombe del supermercato no vabbè ragazzi iscrivetevi al nostro canale alla nostra pagina facebook a tavola con Silvia e al nostro gruppo di facebook tutti a tavola con Silvia e adesso mettiamo la granella la granella perché non bastava non era troppo poco era troppo poco golosa quindi adesso la rendiamo ancora più golosa il tavolo e il tavolo si sporca ma non fa niente dopo puliamo tutto e via dovremmo farla più spesso la colomba si è fatta in questo modo colomba ripieno di crema al pistacchio con cioccolato bianco e granella di pistacchio è finita che dire e quindi niente fateci sapere vi auguriamo tanta 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 buona Pasqua nel senso che tantissimo buona Pasqua tanti no io dicevo tanta perché comunque tante cose da mangiare le mani o le metti più avanti che le ricordiamo tante cose da mangiare quindi di conseguenza tanta buona Pasqua tanta buona Pasqua anche da parte mia alla prossima ciao e adesso l'apriamo facciamogli fa un giro prima cento cento speriamo bene voilà wow che bella il ripieno c'è il ripieno c'è sicuramente abbiamo tolto un'ala guardate un po' com'è soffice bella sì e ora facciamo a pezzettini e ci toccherà assaggiarla giusto? quindi la colomba è fatta buona Pasqua a tutti vi faccio vedere guardate 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 e buona Pasqua a tutti alla prossima ricetta ciao ciao